50.000 euro è la cifra che l'ente bilaterale provinciale di Belluno ha finora deciso di stanziare per fornire un supporto alle aziende aderenti di tutta la provincia che sono state vittime del maltempo e necessitano di un sostegno per far fronte ai danni subiti. Abbiamo deciso di intervenire a sostegno di tutte le aziende del commercio e del turismo che sono state toccate da questa calamità naturale con un contributo di 500 euro per ogni azienda, per chi attinge sostanzialmente a dei mutui bancari. Già le banche locali hanno deciso di intervenire aprendo di mutui ad hoc con dei tassi particolarmente interessanti però magari il costo di apertura della pratica per fare il mutuo è sempre abbastanza importante e noi con questo contributo andremo ad abbattere questo costo. Quante le aziende s'inora coinvolte dall'iniziativa? Noi abbiamo ipotizzato sostanzialmente un centinaio di aziende dalle prime indagini che abbiamo fatto che avranno bisogno di questo contributo. Naturalmente non ci cristallizziamo su questo dato, se anche le aziende fossero superiori cercheremo di venirgli incontro comunque. Noi essendo un ente provinciale anche se di piccola dimensione riusciamo a far fronte subito a quelle che sono le esigenze del nostro territorio e dei nostri associati. I costi di istruttoria saranno rimborsati dunque fino ad un massimo di 500 euro per finanziamenti attivati entro il 31 marzo 2019.